Buongiorno con cittadini, spero che l'audio sia chiaro perché le condizioni meteo non sono le migliori stamattina. Siamo a via Michelangelo sulla pista ciclabile che abbiamo inaugurato poco più di un mese fa. Qualche giorno fa abbiamo riscontrato danni alla pista ciclabile determinati da soggetti che non posso che qualificare come incivili. In primis la segnaletica verticale, qualche stupido che ha parcheggiato, ha fatto una manovra con il proprio autocarro, ha buttato a terra, ha distrutto la segnaletica verticale. La pista ciclabile, sia ben chiaro, è fatta per passare con le biciclette, camminarci con le biciclette, non con gli scooter, le automobili, gli autocarri. Non è un luogo di sosta per gli autocarri e quindi se ci si parcheggia è evidente che si determinano dei danni. Questi sono danni determinati dalla sosta selvaggia.